A Gela la polizia ha fermato per porto illegale di arma clandestina e relativo munizionamento Carmelo Vella, 52 anni. Dopo un controllo in via Sette Farine nella tasca dei pantaloni dell'uomo veniva rinvenuta una cartuccia a modi portachiave. All'interno di un'auto in una borsa a frigo trovata una pistola semi-automatica con canna artigianale in acciaio, senza marche e numero di matricola, con evidenti abrasioni. All'interno dell'abitazione di Vella ha sequestrati una carabina e un silenziatore, inoltre nove cartucce, due maceti e diverse barre d'acciaio. Dopo le formalità di rito Vella è stato rinchiuso in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.